È stato presentato da pochissimo lo studio di un fossile straordinario che mostra il combattimento fra un dinosauro, uno Psittacosauro per essere più precisi, e un Repenomamus robustus, un mammifero simile a un tasso. La lotta fra i due animali è stata fotografata da un'eruzione vulcanica che li ha congelati, perdonate il gioco di parole, in quel momento di battaglia che, forse per uno dei due, sarebbe stata comunque l'ultima. L'Opsittacosauro è disteso a terra, gli arti posteriori sono piegati ai lati mentre il Repenomamus gli si avvolge attorno per addentarlo. Afferra la mandibola con una zampa mentre gli morde il costato e con la zampa posteriore si aggrappa a quella posteriore del dinosauro. Questo è un particolare da tenere a mente, ricordatelo. L'Opsittacosauro è un dinosauro di taglia modesta, lungo fino a 2 metri del peso massimo di circa 20 kg, mentre il Repenomamus robustus, nonostante fosse il mammifero più grosso della sua epoca, era più piccolo, lungo mezzo metro e con un peso inferiore al massimo 10 kg. Anche se sembra strano pensare a un mammifero che attacca un dinosauro, è già dal 2005 che le evidenze scientifiche hanno portato a conoscenza di questa eventualità. I Repenomamus erano in grado di attaccare gli Psittacosauro e prova ne è il ritrovamento di ossa di piccoli Psittacosauri nello stomaco dei mammiferi. È la bellezza della scienza dissolvere le opinioni del passato, come quella che i mammiferi del Cretaceo fossero minuscoli e sempre in fuga dai dinosauri. La scoperta potrebbe anche avere delle implicazioni nel considerare le modalità di estinzione dei dinosauri. È possibile che i mammiferi abbiano giocato un ruolo in quel processo, competendo con loro per cibo e risorse. Prima di continuare a parlare di questo straordinario gruppo fossile, ti rivolgo un piccolo appello. I nostri video sono visti da milioni di persone ogni mese, ma gli iscritti sono molti, molti meno. Puoi sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale iscrivendoti e seguendoci sui social. Basta un click, grazie mille. Ma torniamo al fossile. Le ossa del dinosauro non presentano segni di denti, il che suggerisce che lo Psittacosauro fosse vivo mentre il Repenomamus lo attaccava. Inoltre, se il dinosauro fosse stato già morto al momento dell'attacco del mammifero, questi non avrebbero avuto necessità di avvinghiarglisi attorno. I due fossili sono stati scoperti nella provincia cinese di Liaoning, nota come una Pompei di dinosauri per la quantità eccezionale di reperti che sono conservati da un'antichissima eruzione vulcanica. Insomma, siamo di fronte a un ritrovamento straordinario, simile ai magnifici dinosauri combattenti del 1971, in cui si vedono un protoceratopo e un velociraptor avvinghiati e stretti in un abbraccio mortale, poi fossilizzati da una tempesta di sabbia. La scoperta è quindi eccezionale per alcuni, troppo eccezionale per essere vera. Lo sostiene il paleontologo e ricercatore italiano Andrea Cau sul suo blog Teropoda, nel quale solleva tutta una serie di dubbi sull'autenticità del reperto. Vi lascio il link in descrizione per approfondire. Il Dottor Cau in primis mette in evidenza come il ritrovamento di un fossile tanto completo sia non solo eccezionale, ma un unicum nel proprio genere. Solitamente i fossili mancano di alcune parti, è praticamente impossibile ritrovare ogni singola traccia ossea fossilizzata, mentre in questo caso sembra proprio che i due animali si siano fossilizzati in modo matematico più che naturale. In secondo luogo fa una considerazione sulla postura dei due animali. Il mammifero afferra con una zampa la tibia del dinosauro, mentre il femore del dinosauro copre le ossa della zampa del mammifero. Questo è un caso possibile soltanto se si esclude che nel mezzo ci fossero pelle e muscoli, una cosa del tutto innaturale, che risulta anch'essa praticamente impossibile. In più, nello studio pubblicato su Research Gate, di cui vi lascio anche di questo, il link in descrizione, non è presente un'analisi scientifica con gli strumenti più moderni, con ad esempio una tomografia a serie computerizzata, una tacca, per essere semplici, che aiuterebbe a sciogliere lo scetticismo riguardo il ritrovamento. Anche questa, rileva il dottor Kau, è una mancanza curiosa, vista l'importanza di un simile studio scientifico su un gruppo fossile di questa portata. Le considerazioni del paleontologo italiano sono interessanti e vi consiglio di approfondirle leggendo il suo blog, ma ancora più importante, a mio parere, è la verifica scientifica di articoli che vengono pubblicati su riviste scientifiche. Un conto è Matteo Ruboli che dice una sciocchezza sul canale YouTube. Tutto un altro è uno studio che dovrebbe essere sottoposto a revisione prima di essere divulgato nella comunità scientifica e al grande pubblico. E voi che ne pensate? L'opsitacosauro era davvero preda del forte ma più piccolo Repenomamus, oppure la ricostruzione del gruppo fossile alterata del tutto o in parte? Fatemelo sapere nei commenti. Prima di salutarvi, visto che me lo chiedete in tantissimi, vi ricordo che le magliette che indosso le trovate sullo store di pamplin.com. Se al momento dell'acquisto usate il codice di sconto VANILLA, a voi regalano un paio di calze, a me danno del credito per comprarne delle altre. Grazie mille a tutti, noi ci vediamo al prossimo video.